Per me è un piacere essere qui oggi alla presentazione di questa nuova opportunità per il territorio in primo luogo perché la Palestra Olimpo si è sempre caratterizzata per un'offerta importante che ha avvicinato tante persone nel mondo dello sport e quindi come noi sappiamo sport e aggregazione ha letto perfettamente questo principio e quindi ha portato qua tante persone in un ambiente protetto. Secondo perché questa opportunità parla di prevenzione e anche di ulteriori scusate le ripetizioni e opportunità per chi è magari già un atleta evoluto. Questo fa la differenza, questa differenza l'abbiamo nel nostro territorio valgiatese e credo che sia qualcosa di significativo. Quindi a Rudi e al suo staff dico grazie. Concludo dicendo, vi ringrazio anche perché in questi anni la Palestra Olimpo si è fatta protagonista in tanti eventi del territorio facendo promozione sportiva ma anche arricchiendo quelle che sono le proposte fatte dall'amministrazione comunale. Quindi grazie a Rudi, grazie al suo staff e grazie a tutti quelli che operano in questa struttura.